Stefano Meonga è stato il primo acquisto annunciato dalla dirigenza erpina. Il centrocampista belga era stato già attenzionato ed opzionato durante lo scorso campionato, dopodiché a stagione conclusa è stato raggiunto l'accordo con l'Underlecht. Un accordo che arriva probabilmente per risolvere la situazione relativa a Samuel Bastien con la dirigenza Biancomalva che ha deciso di cedere a titolo definitivo Meonga all'Avellino che dal canto suo avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto sull'altro talentino belga che ha trascorso l'ultima stagione proprio all'ombra del Partenio. Si è trattato di un'operazione voluta fortemente dal duo Taccone e De Vito, i quali hanno seguito diverse partite dell'Under-21 dell'Underlecht, soprattutto quelle di UEFA Youth League. Omeonga è un centrocampista centrale molto diverso per caratteristiche tecnico-fisiche dal suo coetaneo e connazionale Bastien. Probabilmente meno rapido di quest'ultimo, ma con una visione di gioco maggiormente sviluppata, ricorda molto l'ex centrocampista dei Lupi, Musa Coné, ma fisicamente meno piazzato. Dopo due anni per Meonga è giunto dunque il momento di dire addio all'Underlecht che lo prelevò dalle giovanili dello standard Liegi. Prima dell'inizio della stagione appena trascorsa, l'ormai ex società di appartenenza gli fece firmare il suo primo contratto da professionista, senza mai dargli delle chance reali in prima squadra, facendogli però indossare la fascia di capitano della formazione Under-21 del club. Ad Avellino ha firmato per due anni, con l'opzione per altri due, quindi in Irpinia avrà tutto il tempo per crescere e migliorarsi. Anche se non ci sono particolari referenze sul suo conto, e questo soltanto perché non ha mai giocato al di fuori del badge, soprattutto al di sopra del contesto giovanile, l'operazione Omeonga può essere considerata il segnale chiaro del progetto di una società che vuole puntare quasi esclusivamente sui giovani. Un segnale positivo arriva però dall'ormai consolidato rapporto di fiducia e di collaborazione tra l'Underlecht, che da sempre rappresenta il vivaio più produttivo del Belgio, e la dirigenza erpina. In quattro anni di Serie B sono stati presi dall'Underlecht ben tre calciatori, due dei quali su Maria Omeonga al titolo definitivo e con un futuro tutto da scrivere, dato che si tratta di due calciatori classe 1996.